Di tutta la verità ma di la obliqua. È un pensiero, una riflessione di Emily Dickinson che introduce a uno degli ultimi capitoli del libro che sto per presentarvi oggi. Il libro in questione è quello di Federica De Paulis da parte di madre, edito da Feltrinelli. Un libro molto intenso, molto bello, che racconta la relazione tra una madre e una figlia, in cui la verità è un elemento sicuramente molto importante. Quanta verità c'è, permane nei rapporti tra persone ma soprattutto tra due donne e tra due donne legate da un rapporto di filiazione, quindi una madre e una figlia. Molti sono i libri in quest'ultimo periodo che raccontano storie di donne, di madri e di figlie e questo dimostra quanto questo rapporto possa essere approfondito, di aspunti di riflessione, necessiti di ulteriori approfondimenti. Storie diverse, ma che comunque hanno sempre alla base questa relazione così intensa, forse una delle relazioni più complesse che si possa cercare di descrivere o raccontare. Dicevamo, un libro, quello di Federica De Paulis, molto intenso, perché è un libro autobiografico, un libro che racconta questa storia di queste due donne, ma soprattutto racconta di questa madre dai capelli biondi, questa madre particolare vista, scrutata, osservata e anche in parte giudicata, per così dire, da una figlia, ma giudicata in un modo diverso, quello che appartiene al mondo delle relazioni appunto, come dicevamo, figlia-madre. Quindi un giudizio che è filtrato dall'affetto, è filtrato dalla necessità di identificarsi con la madre, anche con la necessità di differenziarsi da questa figura. Una donna sicuramente molto complessa, una donna che si butta negli amori con tutta se stessa, che vive una passionalità nella quale ci si sente trasportati in un vortice e anche la figlia vive indirettamente, ma con molta partecipazione, questa situazione. Non voglio raccontarvi nulla del finale, né aggiungere ulteriori particolari a questa relazione così forte, ma vorrei invitarvi a riflettere su quanto effettivamente la verità che si instaura nel rapporto, nelle relazioni che sono nelle relazioni che coinvolgono più persone, sia un elemento davvero interessante che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Siamo veri, quando siamo veri, siamo veri diceva qualcuno, quando siamo falsi, la verità degli eventi è quella che noi percepiamo o quella che raccontiamo attraverso la percezione che ne abbiamo avuto. La verità è qualcosa di cui abbiamo bisogno o, in fondo, potremmo concludere affermando che la verità non esiste e se esiste, come diceva Emily Dickinson, è obliqua. A ciascuno di voi la risposta, ma soprattutto il piacere, l'interesse di leggere il libro di Federica De Paulis da parte di madre, edito da Feltrinelli. Alla prossima!